Grazie a tutti, è un grandissimo spettacolo, grazie per l'impegno che ci avete messo, grazie per essere qui con noi, grazie per quello che darete per il comune, perché darete per la nostra città, grazie veramente a voi tutti e l'applauso mio e dell'amministrazione per il vostro impegno e al vostro lavoro. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha accolto oggi al Palacongressi della Mostra d'Oltremare i nuovi assunti del comune di Napoli che nelle ultime settimane sono entrati a far parte dell'organico del comune dopo le procedure di selezione per 18 diversi profili professionali avviate dall'ente insieme con Formez PA Dipartimento della Funzione Pubblica nell'agosto dello scorso anno, alle quali hanno partecipato circa 160.000 candidati. Passaggio fondamentale che noi avevamo messo il nostro programma di governo, il comune aveva un patrimonio di personale assolutamente depoperato, con età molto alta e molto ridotto, abbiamo fatto un grande concorso che consente di far inserire al lavoro quasi mille giovani, tutti estremamente qualificati, che hanno superato delle prove di concorso trasparenti e che porteranno energia, motivazioni, grande passione all'interno della nostra amministrazione. Un grande comune parte da una grande amministrazione che sia in grado di gestire servizi per gli utenti, che sia in grado di fare programmazione, di gestire i grandi investimenti del PNRR che abbiamo in campo. Una grande sfida che partirà dalla forza e dall'energia di queste ragazze e ragazze che daranno il loro contributo alla crescita di Napoli.